Ha centrato gli obiettivi prefissati la marcia al ritmo del cuore edizione 2019 promossa lo scorso marzo dai Lions Running. Il bilancio dell'iniziativa è stato reso noto durante una conferenza stampa promossa ai laghetti di Lammari alla presenza dei Lions Club del territorio. Il ricavato della manifestazione ha permesso la consegna di un manichino per l'addestramento sanitario e di un generatore elettrico alla misericordia di Capannori. Parte della raccolta fondi inoltre è stata donata alla scuola Cani Ciechi Lions di Limbiate. Siamo molto contenti perché tutti i service che ci siamo prefissi sono stati raggiunti e i nostri soldi sono andati sicuramente a buon fine. Noi avevamo deciso di destinare i fondi per donare un generatore, un manichino per le manovre alla misericordia di Capannori e così è stato e poi il finanziamento di un cane guida per non vedenti. Inoltre abbiamo realizzato il sogno dei ragazzini della Lega Brigata perché sono stati realizzati 36 zainetti personalizzati per i ragazzi della Lega Brigata.